Michel Curciani è il secondo innesto della finestra di mercato di gennaio per la Teramo Calcio, allora perché la scelta Teramo innanzitutto? La scelta Teramo perché comunque sono stata la prima società che ho voluto fortemente, c'è il direttore ma soprattutto il mister che conoscevo e è stato quello il motivo per cui ho scelto questa piazza. Quando è che la trattativa è andata veramente nel vivo? Ma ieri è stata una cosa abbastanza rapida, nel momento in cui ho capito che mi potevo muovere ho scelto, ho stretto un po' io, ho fatto io la forzatura di poter venire qui. Cosa ti ha convinto o chi ti ha convinto in particolare del progetto Teramo? Sicuramente anche il fatto della piazza, di quello che è successo l'anno scorso, poter dare il mio contributo per poter fare qualcosa di importante è stato quello ma soprattutto anche il mister. Come ti descrivi invece dal punto di vista tecnico-tattico e i tuoi nuovi tifosi? Sono un centrocampista, l'ho fatti un po' tutti, i ruoli sia da basso sia da mezzala, quindi diciamo quello. La tua carriera invece dove sei originato e poi hai vestito tante casacche insomma? Sì, ho iniziato con la Lazio, ho fatto tutto il settore regione con la Lazio, fino alla prima squadra però senza mai esordire, poi ho passato quattro anni qui in Abruzzo, qui vicino, tra cui due anni Lanciano e due anni Pescina, poi ho fatto Gela, Bulgaria, Matera, Aprilia, due anni Caserta, Benevento. L'Abruzzo è un po' una terra che ti è entrata nel cuore, la tua seconda regione? Sì, anche perché ho parenti, ho origini a Bruzzese, di Campli, quindi diciamo che mi trovo benissimo, mi sono sempre trovato benissimo. E i tuoi obiettivi quali sono invece in questo campionato? Ma di poter dare, ripeto, il mio contributo alla squadra perché per poter provare a fare qualcosa di importante.